Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla rubrica i video e l'audio nell'apprendimento. In questo video tutorial volevo presentarvi ClipIt, che non serve per il podcast o per creare una web radio, è molto più semplice e serve per registrare dei file audio e caricarli online e condividerli. Bene, perché fare un video tutorial, dato che è veramente semplice e non presenta nessuna difficoltà di tipo tecnico, più che altro per capire come la possiamo utilizzare. Bene, vediamo prima di tutto quali sono le funzionalità che ClipIt ci mette a disposizione. Possiamo o registrare direttamente su ClipIt un file audio, abbiamo anche la possibilità di farlo su dispositivo mobile, perché esiste l'app per iOS cioè per iPhone o iPad oppure se abbiamo Android dobbiamo collegarci al sito con il nostro dispositivo però possiamo anche, e su questo si può giocare caricare un file audio per esempio un IP3 possiamo poi pubblicarlo o condividerlo tramite il link, tramite i social media più importanti o incorporandolo in un sito, in un forum, in un blog il caricamento ci permette di supplire a quelli che sono le insufficienze di ClipIt per quanto riguarda la registrazione diretta con ClipIt interessante è anche la possibilità di commentare o avviare discussioni infatti dopo aver caricato un file o comunque dopo aver pubblicato un file direttamente registrato è possibile abilitare i commenti quindi gli studenti per esempio possono commentare noi possiamo rispondere e si può avviare così una discussione cerchiamo nel sito di ClipIt scritto clyp.it e a questo punto dovremo registrarci la registrazione è simile come quella di tutte le altre applicazioni web dobbiamo inserire un nome un indirizzo mail selezionare una password quindi cliccare il pulsante giallo possiamo anche collegarci con il nostro account Facebook se non vogliamo un ulteriore account gestire un ulteriore account con la password eccetera io accederò col mio account Facebook ecco qua la pagina iniziale a cui mi trovo cliccando qui in alto a destra sul mio nome posso andare sul mio profilo e qui avrò le registrazioni già effettuate molte sono registrazioni di prova prendiamone una posso direttamente ascoltarla da qui cliccando sul play giallo oppure cliccando in un'altra zona della registrazione mi collego ecco questa è la registrazione qui in alto mi appaiono mi appare il player posso caricare un'immagine come vedete dare un titolo e inserire una descrizione posso anche scaricare posso poi condividere con i principali social network posso anche avere un link diretto oppure un codice per incorporare in un blog in un sito questa registrazione come vedete esiste anche un'area in cui io posso inviare dei commenti o rispondere a dei commenti già inseriti questo per quanto riguarda quindi il risultato finale della nostra registrazione come vedete è un ambiente molto semplice che però è ricco di dettagli e in questo sta il vantaggio dell'usare Clipit perché in fase di registrazione come vedremo adesso non presenta grandi funzionalità però presenta le funzionalità essenziali per quanto riguarda l'utilizzo della Clip Audio commento immagine titolo descrizione possibilità ampie possibilità di condivisione eccetera prima di mostrare la procedura per registrare o caricare un file vediamo un attimo di tornare al nostro profilo e vedere come è possibile editarlo ecco qui posso editare il mio profilo caricando una foto inserendo qualche dato biografico il mio nome la mia mail un eventuale mio sito e decidendo se questo mio profilo deve essere pubblico o meno bene adesso andiamo a vedere come si fa a registrare devo cliccare su Clip sul logo qui in alto a sinistra e su Upload e Clip una volta che clicco su Upload e Clip ho due possibilità caricare appunto il file audio o registrare proviamo quest'ultima possibilità clicco sul simbolo di record e comincio a parlare con un microfono collegato al mio computer ecco stiamo provando la funzionalità di registrazione di Clip It per vedere come appunto funziona a questo punto clicco stop come vedete non ho la possibilità di mettere in pausa è proprio molto primitivo non ho la possibilità di mixare non ho ho semplicemente la possibilità di registrare e riascoltare ciò che ho registrato adesso noi ascolteremo il risultato della registrazione cliccando sul play stiamo provando la funzionalità di registrazione di Clip It per vedere come è se siamo soddisfatti a questo punto possiamo cliccare su upload cioè su carica il file che ho appena registrato e viene elaborato il file processato eccolo qui si aprirà questa finestra in cui io posso dare un titolo inserire una descrizione posso anche decidere se deve essere pubblico o privato più che privato diciamo non in lista e quindi non in elenco e quindi raggiungibile solo da chi ha il link posso anche caricare una foto basterà che clicchi qui e carichi un'immagine qualsiasi in questo caso una sveglia ultima cosa interessante posso abilitare i commenti e abilitare il download questa opzione che mi dà la possibilità di personalizzare l'url per non avere di queste urli incomprensibili è avviabile soltanto da chi paga per l'account premium quando ho terminato posso salvare in un secondo momento posso cliccare su edit dettagli edit ai dettagli per magari modificare il titolo la descrizione eccetera e il gioco è fatto questo è il link qui posso inserire i commenti e scaricare naturalmente da qui posso ascoltare vediamo adesso come funziona il caricamento di un file torniamo nella pagina principale clicchiamo su upload the file andiamo su musica e vediamo Cristina Davena fratelli d'Italia l'inno che è un mp3 come vedete l'inno viene processato è caricato e poi si aprirà la finestra in cui io posso editare i dettagli e salvare al termine dell'operazione bene chiarito questo andiamo a vedere adesso i piani di abbonamento perché è la versione che vi ho mostrato io è quella free che ha delle limitazioni posso caricare 6 ore di registrazione ogni file audio che carico può essere di 25 megabyte al massimo mentre ci sarà la pubblicità e altre limitazioni con la versione a pagamento sono 6 dollari al mese quindi 4 euro e mezzo circa 4 euro e mezzo 5 non ho la pubblicità ho la possibilità di scaricare in alta qualità di personalizzare maggiormente il mio profilo così come il link come abbiamo visto di clipit renderlo più breve e comprensibile e altre possibilità ancora trascuro la versione pro che non serve allora torniamo al problema perché usare clipit se non gli dare anche la possibilità di gestire una vera e propria web radio o di realizzare trasmissioni complesse bene perché qui abbiamo un esempio di tutte le cose che si possono fare con la voce non tutte queste si possono fare servendosi della funzione di registrazione di clipit prima un'intervista è difficile da gestire però che cosa posso fare posso utilizzare anche dei semplici smartphone magari con microfono bluetooth o auricolare e registrare il mio file sullo smartphone e poi caricarlo in questo modo posso aggirare la limitazione e possiamo anche avere delle registrazioni audio più complesse non una web radio appunto perché qui abbiamo una lista un elenco di file audio alla fine come risultato però quindi un nostro canale audio simile a una web radio o sullo stile di una web radio non lo possiamo realizzare però possiamo in modo molto semplice se non vogliamo impegnarci nel gestire una web radio ottenere risultati analoghi sfruttando la funzione di caricamento dei file bene questo è tutto e quindi avete assistito a clipit in soli dieci minuti vi saluto e vi auguro una buona giornata a presto a presto a presto